Questo non è un pezzo proprio poweraccio, cioè doppia cassa manetta E' più un pezzo alla Maiden, però degli strati E non è questo Perciò appena la smette magari Non è questo, non è vero, è una finta Non è questo, hanno sbagliato tutti e due davvero Io cosa faccio in questa canzone? Ma tu cosa ne pensi?